Assessore Italia qui alle balze di Agradina per il primo maggio, grande iniziativa. Sì, siamo davvero soddisfatti di aver messo insieme un gruppo estremamente nutrito di Siracusani attorno ad un progetto in cui crediamo moltissimo, un progetto che nasce da una splendida idea di Ciccio Bellia che poi l'amministrazione ha accolto e ha coordinato anche e soprattutto attraverso l'Arci proprio per rendere il primo maggio a Siracusa una giornata davvero speciale una giornata che ci darà l'occasione di lanciare tutta una serie di messaggi che riteniamo molto positivi chiaramente a partire dalle tematiche del lavoro ma anche le tematiche ambientali, dell'inclusione, dello sport, della cultura a 360 gradi è chiaro che è un motivo d'orgoglio del Sindaco Garozzo, di tutta l'amministrazione comunale ringraziamo ancora una volta tutte le band siracusane che si esibiranno dalle 10.30 del mattino fino al concerto conclusivo dei Cubeta e tutti coloro che desideranno intervenire io mi auguro in modo molto ampio.